Amici 17. Valentina deve abbandonare. Prima dell'annuncio drammatico della bionda conduttrice, in un altro video Alessandra Celentano ha spiegato cosa era effettivamente successo. Secondo la professoressa di danza classica la ragazza si è fatta male perché non ha nessuna consapevolezza del suo corpo, non ha mai studiato, e quindi non sa calibrare i suoi movimenti. Inoltre Alessandra ha sottolineato che quando devi ballare, e non hai la minima percezione di quello che stai facendo come accade a Valentina, che è abbastanza maldestra e non ha vezza a fare passi e coreografie, è abbastanza pericoloso. La ballerina della squadra bianca ha risposto al messaggio della Celentano dicendo che come si era fatto Umbrian poteva accadere anche a lei. La verdecchia ha specificato che quando aveva aperto le gambe in seconda, aveva rimesso la sinistra sopra, ed in quel momento aveva sentito il muscolo contrarsi. Lei quindi si era girata, e la gamba d'appoggio, la destra, alla fine era ceduta perché il muscolo si era fatto male. Il video della Celentano. Https www.instagram.com barra p barra v h o v v 2 f g z q s barra punto di domanda h e l uguale i t e taken by uguale amici ufficiale Valentina Scoppia a piangere ad amici 2018 dopo le parole di Maria De Filippi Labbatosta, è però arrivata a Valentina Verdecchi da Maria De Filippi in quanto attraverso il video caricato oggi nel profilo di Amici17 ha voluto farle sapere la brutta verità. La giovane ragazza ha quindi ribadito dicendo che aveva chiesto al dottore della redazione, come stava e lui le aveva riferito che andava tutto bene, e che quindi poteva stare tranquilla. La bionda conduttrice è stata quindi più chiara. Insomma, se l'infortunio di Valentina si protrarrà oltre la settimana la Verdecchi dovrà abbandonare il talent di Canale 5. Molto probabilmente sapremo sabato in diretta il destino della sfortunata ragazza. Valentina dopo aver ricevuto il messaggio della De Filippi è scoppiata a piangere, e si è rifugiata dentro in bagno. Inutile le insistenze di Cicche le ha chiesto che cosa fosse successo. La Verdecchi ha continuato sempre a singhiozzare ad alta goce senza riuscire a smettere. Il video dell'annuncio di Maria. Inutile le insistenze di Cicche.